oggi la bilan di 102 kg e insomma allarme abbiamo un bel accappatoio poi vedremo adesso vado a recuperare uno specchio forse di là e poi c'è una bella notizia così se che stiamo aspettando poi vedremo come andrà con le situazioni la poca testa mazzone l'impipo eccolo qua lo specchio speriamo di fare la stessa cosa non sapevo non so da dove venga questo specchio lo farò magari pulino signor eduand ma per il momento è eccellente per agevolare il taglio della nostra barba vedete che ci sono i balloni piano piano riusciamo a quasi ha visto a proposito di bianco ha visto l'agrappatoio e questo qua è più grande dove al lavoro o al bagno sopra al suo dicevo il con questo questo è più grande anche volontariamente non succede che si apre l'altro è più piccolo no no dicevo che dicevo che l'altro è più piccolo questo vede vede ho trovato lo specchio ho ripreso lo specchio bene qui chiudiamo allora Grazie mille